un caro saluto da via segantini milano il bambù rappresenta per me la leggerezza la bellezza la sostenibilità e la serenità è il prodotto della natura che meglio integra i valori dell'ecologia della comunità della nutrizione motivo per il quale nella mia costante ricerca di equilibrio nel rapporto tra natura e uomo il bambù è il mezzo ideale per affrontare il progetto di architettura come l'elemento d'incontro tra le due sono lieto come architetto esperto di bambù di fare parte della squadra di AIVA associazione italiana bambù team scelto dal ministro dell'ambiente italiano per presentare italian bambù culture nel contesto di all for climate 2021 vi aspetto qui per la puntata milanese a presto